Ciao a tutti e bentornati qui sul canale Gioco Troppo Poco per un'altra puntata di Dark Souls New Game Plus. Scusate, devo sempre tenermi basso con la voce, perché le mie donne di là stanno dormendo e altrimenti non mi fanno registrare. Ai ai ai. Allora, dunque, abbiamo salvato un pochettino di personaggi e abbiamo detto che questa volta andiamo dal Drago Famelico. La prima cosa che dobbiamo fare è tornare umano. Ah, non sono un essere morto, bene. Può darsi quindi che verrò invaso, finalmente. Poi, ci cambiamo d'abito, perché nelle profondità è possibile essere maledetti e questo non mi va assolutamente. Quindi indossiamo, vediamo un po' cos'è che ci dà la maggior resistenza dalle maledizioni. Ok, l'armatura del paladino. Ok, che è anche molto molto carina. Vediamo un po'. Da 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 da. Dove siamo? Guanti del paladino. E l'ultimo. Ok. Zio bestia, quanto sono... Quanto sono fico. Però, però, ecco, vorrei anche rimettermi la... Ehm, dalla barda, perché è veramente, veramente forte. Alla barda, lancia. Alla barda, alla barda. Ok. Bene. Ora siamo prontissimi per continuare. Vediamo se riusciamo ad arrivare al drago. Vediamo se riusciamo a batterlo. Vediamo se non mi faccio ammazzare prima. Ok. Allora. Ah, dove... Ma dunque, vediamo un po'. È già aperta qua la strada. Ciao topino. Allora. È già aperta qua. No, non si apre da questo lato. Vabbè. Pensavo di risparmiarmi un bel giro. Allora. Cavolo, mi sembra che sia passata un'eternità da quando ho fatto queste fogne. Ok. Ascia grande. Mi avete dato qualche umanità? No. Va bene. Va bene. Allora. Vediamo se mi ricordo dove si va. Lì. Tanto. Oh, io, 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 io. Bastardi. Bastardi. Allora. Qua sotto è anche pieno di... Di... Topi. Lì c'è la mamma topa. Ehi. Va bene, va bene. Ok. Allora, vediamo un po'. Adesso qua bisogna stare attenti perché ci sono i buchi. Ci sono i buchi e io non voglio finire di sotto. C'è la nebbia, ma è una nebbia finta. Eccoci qua. La luce. Ah, è vero che là giù c'è. Il mago. Vieni su, bastardo. Facciamo così. Ti brucio. No. No. Non ero... Stavo guardando il mago. Maledizione, maledizione, maledizione. Ci riproviamo. Adesso stiamo un po' più attenti. Stavo guardando le farfalle. No. Allora. Ma che cavolo? Ecco io. So. Allora. Usiamo l'umanità. Rimettiamo le fiaschette. Andiamo al falò. Torniamo umano. Ah, tra l'altro, tornare umano dovrebbe anche diminuire la possibilità di venire maledetti. Stando a quello che ho letto. Ok. Cavolo, dobbiamo... Adesso dobbiamo rifare tutto. No. Tutto perché non ero attento. Ma doia. Allora. Vediamo... Non mi interessa uccidere qui i topini. Andiamo direttamente di qua. Maria. L'ho preso male. Allora. Poi qua sotto ce n'è uno. Perfetto. Ti taglio la coda. Ok. Eh, un'umanità? Grazie. Infatti. La chiave delle fogne. Penso a te che me la stavo perdendo. Meno male che sono morto. Allora. Allora. Eh, perché... Non sto... Non sto giocando molto attento. Chiaramente... Oh, cosa c'è qui? È morto. È morto il papa qua. Ah no. Allora. Facciamo così. Prima ammazziamo i toponi. Mi curo. Ma cavolo! Sono fortissimi! Sono fortissimi! Ah sì, perché li ha potenziati, Maria! Ma... Ok. Vabbè. Tanto mi hanno regalato l'umanità. Ok. Riposa. Torna umano. Riparti. Ah! No, dai. Non voglio tagliare anche questo episodio. Adesso... Adesso mi concentro, ragazzi. Adesso mi concentro. A me gli occhi. Ok. Due volte nello stesso punto. No, una terza volta non ci sta. Ok. Tu sei roba facile. Poi. Vediamo un po'. E... Oh, Dio. No. Due volte sono morto nello stesso punto. Che figuraccio. E mi dimentico anche che ci sono i topini qua nascosti. Ehm... Ehm... Ma mia. Sai che sono un po' stanco. Ok. Eh sì, in realtà sono bene un po' stanco. Stamattina mi sono alzato presto e sono andato a nuotare la mia... Seconda volta. Ok. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Mi sono alzato alle 6 e un quarto per andare a nuotare. E guarda te che risultati. No, devo scegliere. Allora la mia salute o Dark Souls? Allora, vediamo un po'. Facciamo così. Intanto mi viene a trovare tu, bel topino. Senza farmi un attacco alle spalle però, cazzarola. Poi. Io e te facciamo... I conti. Ma porca miseria, ma... Ok. Ok. Ok, è morto. Sentirei, attento. Ok. C'è ripotenziato ancora. Sei morto, sei morto. Ta 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 ta. Bastardo. Ok. Continuiamo. No, sei anche tu potenziato. Maledetto. Allora. Oh, 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 oh. Allora, adesso qua. Come sembra. Eccolo lì. Ecco lì c'è da saltare. Zuppa pa. Ok. Di là c'è un topo? Di qua c'è un topo. Vediamo un po' se sono al topo gigante. Sono al topo... No. No. Sono tornato dove ero prima. Come è possibile? Come è possibile, parzellano? Ok. Va bene, va bene, va bene. Adesso facciamo un altro giro, allora. Facciamo un altro giro, stando attenti. No. Allora. A te. A te ti brucio. Ok. Bene, 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 bene. Attenzione. Oh, ah, lì c'è. No. 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 Mi devo fare tutta la parte con queste bastarde. Mamma mia, per fortuna le ho one shotto. No, sono bastardissime. Sono velocissime. Ok, per fortuna ho una buona resistenza. Buf, no, mi devo fare tutto quanto. Va bene. Va bene, la facciamo per la via lunga, allora. Lì si nasconde, maledetto. Si nasconde, maledetto. C'è qualcosa di qua. Mi segue, mi segue, sì. Mi segue. Mi segue, il maledetto. E io... Guarda quanto resisto, sono... Fantastico. Mamma mia, adesso sono troppo sicuro di me. Non va bene. Oh, oh, due, due. Uh. No, 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 no. Fatti beccare, maledetto. Ok. Ti ho beccato prima che mi sputacchiassi. Uh, qua c'è qualcosa. Anima, anima mia. Allora. Oh. Dove sono finito? No. No, 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 no. Non entrare nella le... Ok. Anche te ti ho sistemato. Vediamo un po'. Non me lo ricordo, tutto un po' un labirinto qua. E devo stare molto attento. Allora. Ah, ok. Sono arrivato qua. Sono arrivato qua. Se non fossi caduto. Ok. Anche per... Double shot. Oh, oh. Vediamo. No. Cavolo. È bastardissimo. Ok. No, 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 no. Cosa rotoli? Sei morto. Ok. Benissimo. Anche il cavaliere di spine è stato sconfitto. Spada dentata. Sono... Ho sei fiaschette. Vediamo un po'. Non dovrebbe essere così lontan... Oh, io, io. Ciao, ciao, ciao. Bello. E anche quelli piccoli possono dar fastidio. Allora, non dovrebbe essere lontanissimo il mostro. Eh... Esatto. Allora. Dunque, vediamo un po'. No. Non mi ricordo mai bene dov'è la scala, cavolo, per andare al falò. Mi può dare un'indicazione, per favore, che mi sono perso? Allora. Eccola qua. No, non è questa. Questa ti porta quassù. Ah, qua ti porta... Va bene, dai, va bene. No, no, no. Un cavolo, va bene. Ma sì, va bene. Allora. Andiamo a evocare Solea, dai. Che ci potrebbe giusto dare una mano. Dove si nasconde? Non mi ricordo. Dove si nasconde? Mi sembra che si nasconde da ste parti. Non si nasconde da ste parti? Eppure sono umano, sono umano. Vabbè, dai, chi se ne importa. Proviamo. Ah, eccolo qua, Soler. Proprio davanti al mostro. Bravo, Soler. Ok. Ah, mi sono andato... Mi sono andato troppo lontano. Scusa, Soler. Ah, no. Senti, allora, facciamo così. Adesso proviamo a ammazzare il drago. Se va bene, bene. Se no, rimandiamo al prossimo episodio. È fatta? È fatta? Ok, ciao. Vediamo un po'. Muoviti, però. Dio mio. Guarda, le scale sono qua. Seguimi. Con calma, però, eh. Ci sei? Ce la possiamo fare ancora oggi? Bene. Allora. Ok. Benissimo. Allora, facciamo così. Io scappo. Io scappo. Io scappo. E tu, Soler... E tu, Soler, ti prendi la carica. Bene? Ok. Ok. Io scappo. Io scappo, Soler, eh. Io scappo. E tu, e tu lo tieni occupato. Bene? È fatta? Zio, bestia. Che male ti ha fatto, Soler. Ok. Mi sa che l'abbiamo perso, Soler. Via, 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 via. Ok. Soler, resisti ancora un pochettino. No, mi sa che l'abbiamo perso il nostro Solerino. Via, 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 via. Via, via, via. No, 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 via, via. Cos'è sto schifo? Via, via, via. Via, via. No, Soler è morto. Ok. Adesso cercherà di beccare me. E io devo scappare il più lontano possibile. Scappiamo, scappiamo. Finché non rilancia la carica. Scappiamo. Senza di tegno, noi scappiamo. Mamma mia. Mi sa che dovevo mettermi l'armatura più veloce. Scappiamo. Teniamolo d'occhio, ma scappiamo. Dai, fai la carica, ciccio. Ok, io mi metto l'arma a due mani. E noi facciamo uno, due, tre. E poi scappiamo via più veloce della luce. Scappiamo via. Ok. Scappiamo via più veloce della luce. Fai la carica, fai la carica, bello. Ok. Io ti colpisco, facciamo così, ti colpisco solo due volte, perché non sono proprio sicurissimo. Via, 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 via. Non so cosa stai facendo, ma non mi piace. Ok, fai la carica, fai la carica. Fai la carica e chiudiamo questa partita. Ok. Ok. Bravo, bravo. Ok, ho fatto una cagata. Quindi mi adontano subito. Ok, io facciamo giro, giro, tondo ancora a lungo. Fai la carica, fai la carica, fai la carica che così te do. Ok. Ok. Ok, facciamo che adesso mi allontano. con tutta tranquillità. E continuiamo il nostro giochino del giro, giro, tondo. No, sono troppo davanti a te. No, 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 no. Non so cosa hai in mente, ma... Non mi piace. No, 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 sono troppo vicino. Sono troppo vicino, sono troppo vicino. Gira, 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 gira. Uh, non ho idea di come ho fatto a schivarla. Gira, gira. Ok, fai la carica. Bravo, bimbo. Ok, l'importante è non farsi schiacciare quando fa questa carica. Ok. Bon, ci vediamo alla prossima. Ok, uh. No, 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 sono troppo vicino. Mamma mia. Sono troppo vicino. Corri, corri, corri. Corri, 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 corri. Corri in cor... Ok, carica. Carica che questo è l'ultimo round. Se non mi faccio schiacciare. Uno, due, tre, e... Quattro, mamma mia. Oh. Non avevo più resistenza. Mamma mia. Yuppi ya ya, yuppi yuppi ye. Oh yeah. Yuppi ya ya, yuppi yuppi ye. Oh yeah. Ok. Ho anche guadagnato un osso del ritorno. Bene, ragazzi, andiamo al falò. Andiamo al falò. Non c'è più niente da prendere, no. Andiamo al falò. Yuppi ya ya, yuppi yuppi ye. Oh yeah. Yuppi ya ya, yuppi yuppi ye. Oh yeah. Rotolo, rotolo. Ok. Mamma mia. No, sapete cosa? Ci sono 156.000 anime. No, io uso l'osso del ritorno. Ah no, perché devo aprirmi la strada, porzalana. Porzalana, devo aprirmi la strada. Allora, devo risalir di qua. E? No. Sì, ero salito di qua. E poi, e poi, e poi avevo fatto il giro di qua. Cavallo, l'ho fatto 30 secondi fa e già non mi ricordo più. Poi si va giù di qua. E qua da qualche parte c'è la scala. Allora. Ah, ma ero... Eccola lì. Tu, tu, tu. No, devo aprire la porta, altrimenti mi tocca rifare tutto il giro per tornare qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok. Ok. Bene, anche il Drago Fomelito è andato. Adesso io dico, cosa c'è, cosa c'è? grazie grazie a tutti quanti per per la visione ci vediamo alla prossima puntata cos'è che c'è adesso oh mio dio adesso c'è la città infame no ciao alla prossima